Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che girano intorno L'oroscopo letterario con Nina Segatori Buonasera Nina! Buonasera, buonasera a voi! Salve! Come andiamo Nina? Come stai? Bene, bene! Voi tutto bene? Eh, ti stiamo avanti! Tire Minnanz, abbiamo fatto lo switch con Gabriele, Gabriele Parpiglia sarà al tuo posto venerdì Però noi non potevamo fare a meno del nostro oroscopo di Nina Segatori E soprattutto vogliamo sapere se ci sono dei transiti, dei treni che ci arrivano addosso Nina Quindi bisogna fare l'oroscopo ogni settimana perché questo periodo ci serve come il pane Ecco qua, quindi come l'abbiamo impostato questo oroscopo? Dal 10 maggio c'è Mercurio retrogrado, quindi i gemelli Quindi tutti i contratti, i treni, i raffiarecchi elettronici, insomma, tanti contrattempi potenziali Oh mamma, ma da quando hai detto? Eh, dal 10 maggio Ok, quindi proprio Da un mesetto, quindi sì No, ma come un mesetto? Vabbè, da un giorno Cioè per un mese, Maurizio, ma qui il radio che casca alle linee Io non so se ce la faccio a fare un mese con i problemi tecnologici Ci aggiorniamo, ci aggiorniamo, sì Va bene, va bene, va bene, niente Però, venerdì 13 dovrebbe essere la giornata mondiale del sonno Quindi stavolta ho scelto tutte canzoni rilassanti Ah, bene, brava, così almeno con questi periodi ci rilassiamo un attimo con l'oroscopo di Nina Va bene, partiamo dal primo segno, la riete, Nina Allora, per la riete ho scelto Farfalla Bianca, di ultimo Rinchiude in un minuto vent'anni di cose, ma il tempo in fondo è quello che noi affidiamo Un po' di malinconia in questo weekend per la riete Una malinconia che però stimola il pensiero profondo I ricordi e può portarlo quindi a decisioni sagge Si prenda un po' di tempo per riflettere, gli farà bene E invece il toro, Nina? Per il toro Candy di Nutini Tutti loro mi hanno fatto aspettare e aspettare Tutto quello che fanno è mantenermi in attesa Un po' nervosetto il toro che è stanco di essere in attesa di tempi migliori Qualcuno riparte da zero, qualcuno invece ha bisogno di una spinta E in questo caso un amico o un collega, insomma, possono aiutare Quindi non faccialo orgoglioso e chieda una mano se serve Capito mamma? Ok, grazie Nina, io mando i pizzini Io lo faccio sempre con l'oroscopo letterario di Nina Segatori Penso amici, parenti e mando i pizzini anche dopo il programma Poi mando i messaggi Oggi Nina ha detto che, ecco I gemelli, Nina Per i gemelli Be All Right di Lucy Rose I miei sentimenti sono ancora lì che crescono Sono nuovi per me e io sto ancora imparando Allora, neppure lui sa come si sente il gemelli Perché c'è chi si annoia e vorrebbe magari un po' di stimoli E chi invece sta vivendo al contrario un ritmo frenetico E ti sta prendendo gusto Tanto poi da non riuscire a stare senza far nulla E quindi un po' a sentirsi agitato in quei casi In entrambi i casi però apprezzi questi sentimenti Perché sono quelli giusti proprio per dare una bella scossa alla sua vita Capito Marcello? Capito Nina? La mia vita è questo, te l'avevo detto io mi dico da sola spesso Mamma mia, vorrei essere te Il cancro Per il cancro Stay With Me di Sam Smith Perché sono così sensibile? Ho bisogno di autocontrollo È particolarmente sensibile in questo weekend il cancro O perché si sente un po' solo O perché ciò che desidera fare magari non combacia esattamente Con quello che può effettivamente fare Però in tutti i casi un pizzico di autocontrollo serve E tutto andrà bene L'autocontrollo e il cancro nella stessa frase? Esatto No, non è così Esatto O troppo o troppo poco Ecco, non hanno via di mezzo Sì, di solito esplodono Il leone invece Se il leone è Baby Cry di Janis Joplin Devi fare almeno una cosa per bene per farcela in questo mondo tesoro Più fa le cose fatte bene Più sembra che qualcosa o qualcuno gli metta un po' i bastoni tra le ruote Sta facendo le cose con amore e sta riuscendo a esprimere se stesso al 100% Ecco, si faccia queste domande e se la risposta è sì allora vedrà che presto la situazione migliorerà Si sbloccherà Ok, ora il segno che ci sta tanto a cuore è la Vergine Allora, per la Vergine Father and Sons di Cat Stevens Ah, che bella Non è tempo di cambiare Rilassati Prendila con calma Calma e sangue freddo Perché questo è un weekend dove anche la cosa più rilevante Sembra diventare di un'importanza cosmica Hai fatto Cat Stevens e Luca Dirisio insieme Esatto Solo perché magari non è pienamente soddisfatto Potrebbe tendere ad esagerare nelle valutazioni Invece dia il giusto peso alle cose Calma, Costanzo Anche calma e Costanzo nella stessa frase Io ricordo sempre Fabrizi che ti diceva che vai di corsa anche al telefono Io trovo che sia proprio una delle cose più azzeccate di te Io stamattina, adesso lo dico agli ascoltatori, sono arrivata in ufficio E Maurizio mi doveva raccontare una cosa Ma siccome si era già annoiato me l'ha detto in tre parole E io l'ho guardato e ho detto Maurizio ti rendi conto che non è neanche un riassunto? Cioè non ho capito niente di quello che mi hai detto Ma io penso che la gente deve essere nel posto giusto Al momento giusto che uno dice una cosa Se arriva dopo che stiamo a fare il replay di tutto Ah mi stai mandando frecciate così pubblicamente? No no per dire Io sono uguale, lo capisco Mi annoio anche da sola, certe volte quando penso Ah dio, è una vita che mi annoio Com'è la esporti, la noia, la malinconia? La esporto al terzo mondo La bilancia Nina Per la bilancia Breed dei Pink Floyd Ho fatto un collage di frasi Respira, ne espira nell'aria Non aver paura che ti importi di tutto ciò che tocchi e vedi E tutto quello che la tua vita sarà Spegnativa come frase Perché è come se ci fossero due persone dentro la bilancia in questo momento Quella entusiasta Sì E quella che si ricorda invece ogni tanto di avere l'ansia Ecco non permetta che questo conflitto interiore Gli rovini le giornate O gli faccia magari vedere le cose più nere di quello che in realtà sono Ecco chiedo scusa agli ascoltatori se sorrido sulla bilancia Perché penso a Lidia e penso che sia azzeccatissimo questo oroscopo Per Lidia Due personalità sole Lidia ti è anche andata bene Lo scorpione Per lo scorpione Kill Em With Kindness di Selena Gomez Nessuna guerra è mai stata vinta con la rabbia Spegni il fuoco prima di accenderlo Uccidili con la gentilezza Questo è un weekend in cui potrebbe proiettare sul partner o sugli altri un malcontento suo personale O al contrario magari essere lo scorpione a subire questo trattamento Quindi disinneschi se ce la fa ma potrebbe farcela in questo weekend Attenzione però ai flert o ai colpi di fulmine con qualcuno già impegnato O se si è già impegnati Ma scusi un attimo Storniamo un attimo alla bilancia che hai detto a Lidia Sì Io ho un figlio bilancia Un segno perfetto È giusto È inutile che dici a Lidia No era giusto l'oroscopo di Nina Era giusto per tuo figlio Sì infatti è giusto per il mio figlio Era giusto? Vai vedi? Nina non sbaglia un colpo Dove siamo? Al sagittario adesso Nina? Sì per il sagittario More than words the extreme Più delle parole Ciò di cui ho sempre avuto bisogno sono le dimostrazioni Weekend in cui starcene a casa Comunque senza far nulla Potrebbe essere comunque più difficile del solito Perché la curiosità è alta così come la voglia di fare cose Quando il cervello sta in fermento in questo modo È difficile che non si metta poi ad analizzare cose che magari non esistono Niente paranoia Insomma si attenga solo ai fatti Solo ai fatti sagittario Mi raccomando Un po' come fa il capricorno Esatto esatto Per il quale ho scelto l'over dei Taylor Swift Possiamo lasciare le luci di Natale fino a Gennaio Questo è il nostro posto Facciamo noi le regole Probabilmente o una spesa inaspettata O un desiderio a cui non sa resistere Può portarlo a prendere una decisione un po' istintiva Senza rendere conto a nessuno Sia un pochino più lungimirante di così Andiamo bene L'acquario Per l'acquario not today the Imagine Dragons Prendi la vita e liberami di nuovo Diventerà più facile e sempre più facile in qualche modo Senti la polemica già nell'E di Costanzo C'è in qualche modo una sorta di impedimento al pensiero libero A causa di qualcuno che magari decide anche per l'acquario Non sa che cos'è L'acquario non sa che cos'è il pensiero libero Sì ma non vale che usi Nina e il suo rosco per bullizzare il mio segno Maurizio Mi stai bullizzando Anche lui lancia pizzini Lancia tutta anche l'arco e le frecce Oltre che pizzini Costanzo No scusa scusate ascoltatori Quindi l'acquario vai Nina Ecco o c'è un impedimento al pensiero libero A causa di qualcuno che magari decide anche per lui Oppure un impedimento a libertà personale Perché deve prendersi magari sicura E' quello è il punto Deve preoccuparsi di qualcuno Prendersi cura di qualcuno Pian piano la situazione migliorerà Per ora e dirò una cosa che non piace all'acquario E' meglio essendolo qualche compromesso Per questo weekend Ma come l'acquario è un sacco di compromessi Costanzo mi dice sempre che non abbozzo Nina Tu non abbozzi mai L'ultimo segno è il segno dei pesci Sì per i pesci ho scelto videogames di Lana del Rei Dicono che il mondo sia stato costruito solo per due persone E merita di essere vissuto solo se qualcuno ti ama Allora in questo weekend i pesci potranno rendersi conto Che l'amore ha tante forme E se ne renderanno conto Perché faranno caso a dei piccoli gesti E da questi imparerà a capire Se credere a ciò che vede O a ciò che percepisce Il vero dilemma di questo weekend Il vero dilemma per i pesci L'ultimo segno dell'oroscopo letterario di Nina Segatori Ricordo che Nina ha una pagina Instagram Che si chiama proprio così Oroscopo letterario Molto seguita quindi andatela a cercare su Instagram E che l'oroscopo letterario è anche un libro Edito Fabri Editori Grazie Nina Grazie a voi Un abbraccio A te Su R101 Facciamo finta che Facciamo finta che tu sia qui con me Facciamo finta che R101 Grazie a voi Grazie a voi